Il monumento a Mileto è veramente la ciliegina sulla torta di 40 anni di attività che Memo Buzomì ha dedicato al giro e lo dimostrano i contatti umani personali che lui ha con tutti i componenti direttivi e con i ciclisti. Quindi mi sembrava doveroso, oltre che ricordare la partenza di Mileto dopo circa 30 volte che il giro è passato o c'è stato un arrivo veloce eccetera, realizzare qualcosa che restasse per sempre. Sono felice che abbiamo realizzato qualcosa ricordandosi agli antichi valori del ciclismo con l'immagine di Coppie e Bartoli in cui la dimostrazione che il ciclismo è stato da sempre uno sport di coraggio, di potenza, ma anche di umiltà e di amicizia o comunque di rispetto. E poi questo omaggio con la targa ricordo della cittadinanza onoraria che era stata data a Toriani che ricorda veramente uno dei grandi organizzatori del giro che con Memo avevano un rapporto fraterno e quindi un dono alle future generazioni di un impegno, di un'idea che resterà per sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.